Sembrano ormai una cosa sola, almeno in apparenza, Matteo Renzi e Mario Oliverio reciproci gli attestati di stima strette di mano e pacche sulle spalle, addirittura l'abbraccio romano nella giornata di ieri, ingredienti di un'intesa che non può mettere però a tacere i disguidi dei giorni scorsi. Eletto il capo dello Stato, il governatore dovrà rituffarsi però nell'arena calabrese. Il 6 febbraio è previsto l'assemblea regionale del PD e non è detto affatto che il segretario Ernesto Magorno ne esca sano e salvo. Peraltro da capire rimane come il presidente della regione venga fuori dalla vicenda dei Gaetano, l'assessore sul quale alleggia il pesante sospetto racchiuso nelle carte dell'inchiesta contro il clan tegano di archi che ha portato a 25 arresti nello scorso mese di dicembre. Maria Carmela Lanzetta, che tra qualche ora dovrebbe dare le sue dimissioni da ministro, non entrerà nell'esecutivo. Delusa, l'ex primo cittadino di Monasterace è pronta a ritornare alla professione di farmacista perché è difficile da mandare giù il metodo usato dal premier per scaricarla dall'esecutivo nazionale. Queste almeno le sue parole di ieri. Quanto a De Gaetano, le affermazioni di Gaetano del Rio non sono state ancora ufficialmente smentite da Renzi. Anzi, fonti di Palazzo Chigi rassicurano che il premier e il sottosegretario alla presidenza del consiglio viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Con buona pace di entrambi, Oliverio non intende però tornare sulle sue decisioni. Dunque, l'ex consigliere regionale di rifondazione comunista rimarrà nell'esecutivo che per il momento dovrebbe restare a tre in Calabria. Il tutto mentre gli alleati di centrosinistra, dai socialisti al centrodemocratico fino a SEL, chiedono un allargamento del governo regionale al governatore. Insomma, centrosinistra in ordine sparso, segno che, conclusa la pausa romana per l'elezione del capo dello Stato, il governatore dovrà rituffarsi suo malgrado nella bolgia infernale di Palazzo Alemanni.